Allora, la nostra cheesecake è pronta e ora andiamo a tagliarla. Hello guys, welcome to Fettobarri Rosemary Kitchen. Our recipe for today is called cheesecake. Let's go and see our ingredients. Milk, panne, butter, Philadelphia, sugar, granddad, biscuits and gelatina di pesce. Ora io, scusate ma parlo in italiano, mettiamo i nostri biscotti macinati dentro il nostro ciotolo, li andiamo a spalmare nella teglia e ci andiamo ad aggiungere il nostro urro fuso. Ora, con le mani, andiamo a mixare il tutto. e cercando di renderlo il più duro possibile. La nostra base per la cheesecake è pronta e la andiamo a mettere in frigo a riposare per circa un'ora. e ora ci sposteremo per andare a preparare la nostra cena. Ora andiamo a mettere la nostra gelatina di pesce dentro il latte e la faremo cuocere all'incirca per 4 minuti o almeno finché la gelatina di pesce non diventerà una nostra gelatina. e la andiamo a mescolare. Nel mentre la nostra gelatina sta cuocendo, noi andiamo a montare la nostra panna e la nostra Philadelphia con lo zucchero. e ora andiamo a mettere la nostra panna da montare dentro la nostra ciotolina. La nostra gelatina di pesce è pronta e ora aspettiamo che la nostra panna e la nostra Philadelphia si montino per metterle insieme. Cosa? Cosa? bene la cheesecake è pronta la lasciamo stare tutta la notte e domani mattina vedremo il risultato bene la nostra cheesecake è pronta la lasciamo stare tutta la notte e domani mattina vedremo il risultato allora la nostra cheesecake è pronta e ora andiamo a tagliarla bene la nostra cheesecake è pronta e questo è il risultato